Il problema di cui si parlava adesso, cioè il fatto che per il magistrato è più facile indagare il tabaccaio, deriva da quella diciamo ipocrisia che si chiama l'obbligatorietà dell'azione penale del magistrato. Cosa significa? Significa che ogni volta che c'è una presunta notizia di reato, il magistrato anche se magari non sarebbe d'accordo sull'indagare, si trincera dietro al fatto che è obbligato e quindi il procedimento comunque parte. Poi visto che conosciamo come funziona la macchina della giustizia in questo paese, una volta quello nel procedimento c'è, la vita ce l'ha rovinata e poi magari a distanza di dieci anni si fa dare ragione. Allora un primo intervento che si potrebbe fare domani, che il Parlamento potrebbe fare domani, invito Portas che fa parte della maggioranza a farsi promotore di questa cosa, è cancellare l'obbligatorietà dell'azione penale.